No, venga, sono acostumbrato, se no, sono acostumbrato. No, sono elettro. Di che è un pescardo? Di gran soli, per lo meno. Che tal, Bertista? Buonzie. Grazie a tutti Sì, a questo lo ha fatto come da... Ah, è il tuo, no? Sì. 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 io lo voglio sacare ora per mettere tutti i tuoi ah, e ha fatto il remolcador vale, vale lo vamos a traver pa'ca ora lo saco questo grazie Grazie a tutti. 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 Grazie.